buonasera a tutti e benvenuti la stampa è sicuramente un momento importante lo definirei della nostra vita del nostro quotidiano nell'aiutarci ad affrontare tutto ciò che ci circonda dal punto di vista sociale dal punto di vista economico politico amministrativo culturale e quanto altro quindi benvenga la stampa benvengano i mezzi di informazione sotto plurimi aspetti giornali radio televisioni etere internet e tutto il resto tuttavia l'auspicio l'invito che io faccio per carità ma che un po tutti forse stiamo riflettendo nel rivolgere è quello di moderare o comunque calibrare nella maniera più responsabile possibile tutto quello che accade intorno a noi con riferimento ovviamente in questa situazione al coronavirus al contagio all'epidemia pandemia che stiamo vivendo atteggiamenti esagerati quindi dove poi da allarme si passa ad allarmismo atteggiamenti concitati atteggiamenti ansiogeni che ci caricano di emozioni quando sentiamo dire ma sono finiti i disinfettanti ma sono finite le mascherine ma i respiratori mancano e quindi come possiamo fare ed ancora abbiamo perso del tempo ed ancora si sarebbe dovuto fare di più ed ancora è stato sottovalutato il fenomeno e la corsa ai centri commerciali per la spesa che poi magari potrebbe mancare quanto altro ecco dicevo quando si confonde l'allarme cioè individuare delimitare oggettivizzare un fatto concreto e studiarne poi rimedi e si entra nell'allarmismo dove camminiamo guardando a destra sinistra in alto in basso senza sapere da che parte arriverà il nostro nemico e in questo siamo aiutati da una stampa che presumibilmente esce da certi confini deontologici ecco che tutto questo diventa un problema problema che è stato affrontato dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti dove si è stigmatizzato questo aspetto dove si predilige l'informare e non l'allarmare dove si chiede chiarezza per quelle che possono essere le fonti della notizia per quelli che non devono essere i sensazionalismi per quello che deve essere il fatto così come esposto tutto questo con quella che è la conseguente di conseguente assunzione di responsabilità per chi propone la notizia in questo modo ecco tutto questo deve essere sempre e costantemente monitorato soprattutto anche in questo periodo complicato perché diversamente oltre alla diffusione del contagio che già c'è ed è un'emergenza scientifica che viene analizzata con metodo scientifico potremmo assistere in più anche alla diffusione della psicosi e diffusione del contagio unita alla diffusione della psicosi unito ad un bollettino di guerra che tutti i giorni in qualche modo noi riceviamo dalle fonti giornalistiche dei mezzi di informazione ecco voi capite come in un attimo la notizia possa creare qualcosa che così va al di più di quello che il valore intrinseco della stessa si va oltre si può anche fare danno i telegiornali sostanzialmente mattina pomeriggio e sera non fanno altro che parlarci di contagio di virus di malattia con tutte quelle argomentazioni che più o meno vi ho accennato oltre poi alla questione economica lavorativa politica eccetera quindi un'informazione corretta un'informazione piena un'informazione verificata può esserci utile un'informazione diversa no e noi in questo momento di informazioni diverse a prescindere dalle fake news e quanto altro che sono palesemente delle idiozie però non ne vogliamo perché ripeto vogliamo essere informati e conoscere i termini delle modalità di ingaggio in una situazione di allarme che esiste che c'è che è vera che stiamo vivendo ma non vogliamo vivere nell'allarmismo grazie